ah e là qua c'è l'uva c'è l'uva qua eh è una pianta, ha guardato il croce ah bello, allora questo uve qua si fa per mangiare no? ah questo uve qua e questo è per mangiare, ma questo è il padrone dei nassaggi, no? questo è il basso, e qua non lo vengono a fare, la mescola con quell'auto ah la mescola quando prima vengono a fare la bianca, dopo quando... a tempo vengono a fare la nera la nera guarda la tagliata che non viene pure dentro il bevesto che è fatta per un ucchio eh si che è fatta per un ucchio oh i non so non l'ucchio no paradiso andrapa no 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 ma non c'è un libro loro che mi fanno letta io mi fanno letta capito il pomador ehi hai fatto il pomador eh no la figa diciamo qua dove sta la figa la pomador la vede che non c'è l'uomo sta letta l'uomo vede ehi che bello eh mi ha tu nonno mai ci puoi zappar zappar la minta la vera della legna eh ma hai detto la nonna che va azzangata facendo tutto qua ah ma tu non ero per me qua ero per il tetto eh sì che ero in deserto qua eh sì che ero in deserto eh sì che ero in deserto eh eh veramente eh eh ehm beh ah eh eh ah eh non ti ricordo di me eh e che lo fai? allora allora 90 anni hai da fatto o hai da fatto ancora? 90 anni hai da fatto o hai da fatto ancora? io sono nato il 20 dicembre se lì arriva il 20 dicembre l'era per regola facevo 89 ma come per dire il signore mi porta un anno eh ha giocato ecco abbiamo che grazie vabbè l'unica vera di eh sì fino a me non ci lamentammo no 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 io da l'ora che come da tutti i simili l'ho giustato a Napoli dove a tutto parte l'ho giustato pure un po' la pedia ah ero trattato buono a Napoli ah sì sì te lo sfidavo nuovo entravo ah allora c'è stato parecchio tempo perché è noi la dama mi era quasi passata buono giusto l'ora che mi vende come un attacco l'ora che mi aveva portato a Sant'Angelo immediatamente che mi aveva abbandonato è capito che mi infalto eh a San Angelo posto i 3, dati a leggere i giorni, questo è uno che si trovava da Torino sti annando la notte sono 10 notte che mi poteva rilassare, ma ora non morì, non beviamo brutto è tanto meglio di tutta questa medicina, almeno di 8 anni e tu capisci questa medicina e grazie a Dio però te quella vita è così, sempre buono, dopo età e ti fermo malmente il mio zio mio ha 84 anni, un zio mio Salvatore Rocco, si chiamava Salvatore Rocco il mio zio mio ha 83 e 84 anni ha perduto la capa e poi Gesù questo si è appiccato e questo è bello e buono e Gesù si è voluto così eh si si si, quello è un destino, quando è arrivato l'ora, ciao questo zio mio cazzo, questo zio mio cazzo teneva la classe 12, insomma così si è venuta la classe vostra perché, ora è morto già i 4 anni, 84 anni è morto e lì avevano proprio più pizzi delle idee, però più o meno, più o meno sti quell'altro io si ha fatto la guerra, pure io si ha fatto la guerra del 1940 la guerra del 1940, proprio il Seresino, è fatto da tutti i morti si è stato a Jugoslavia lui, tu sei stato a Grecia e a Jugoslavia e mi ricordo, e mi ricordo perché ce l'aveva detto il zio mio quando ha girato l'America ce l'aveva detto, ho girato un anno di Filomena, fosse stato in due stesse battaglioni, chissà era una delusione rossa io, eh lo so, lo so, ma le puriste state proprio che state prigioniere io lo so, proprio in linea, proprio in Ciglia, l'ermano dieci soldati, l'officiale e dieci muri la portavamo, non mangiare vivere e tutta un coppa da quell' montagna, dovecchè che ero noi camminavamo sempre da notte, mangiare, 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 mangiare che non cioè lui,これ di ripetere, e non mangiava, come lo portavano per ci bloccare a quell' montagna a fare una guerra per ci mettere la montagna ma Gesù Cristo mio ma che cazzo di vita qui sta e per cire la gente e che le persone per che per cire la gente e quello lo faccio sono quelle notte allora io non me lo posavamo la notte portavamo quelli muri cari e poi quelli muri a dire che c'erano metà nottato a dire il fine che erano cari ma tornano e non mi tornava a pelle mi muriva tanti e lui era a pelle ah beh quelli trattamenti che hanno fatto ma molti ufficiali non hanno appuntato le nostre che facevano troppo i muri vi avete fatto 4 o 5 anni? no o solo 3 io sai lo so ma ho fatto e stai bene un anno ma non c'era non c'era ma non c'era ma non c'era il posto di guerra quando c'era ma non c'era quando mi stai facendo la mamma del gelato e partite la cavo però siete in Italia, sempre in Italia sono tutti sentati qua e non mi fai finita mai io non me sono a fermo, non mi fai finita mai ma io mi sono ingradiato perché mi stai sempre riposto se ora da qua che esco e non lo furtivo qua non mi fai finita mai, non mi fai finita mai e che caccio è? non sapevano manco loro che avevano fatto perché questa guerra era tutta sbagliata l'Italia non resta mai con chi lì? no, il sbaglio che ha fatto, mi sorrignano guardate che l'hanno acciso, l'hanno acciso di questo perché si ha posto Martugno hai fatto una allaanza con la Germania ma però se tu in questa guerra la Germania la perde tu l'hai persa che sei la cosa che ti metti contro gli italiani? ma tu sono io, sono i tuoi e qui il biglietto è la figlia di buon l'italiano non c'è mai? ma non lo so, a Milano a fuoco 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 si, 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 si hanno un piccato, hanno un piccato di piedi un po' di piedi tu l'hai acabo su la miseria poi ci erano 3 la homie non erano 3 la pomeriggio si e lui non erano 3 miriglie mamma che guerra di macero le calabie e curi che le teniamo se le letterarie c'erano non è da dove si ora le regine nostre sono presidi teniamo un po' con arma e ogni paese due soldati come c'erano le grosse quelle frazioni e gli ingraziati e non si prendono per i finiti pure non c'erano le mani a loro ma a 10 giorni erano circondati e portavano i vini con la carri non avevano le scatolette e quando eravano a barri mette le rotte a fuoco queste regioni l'italia non salvavano da voi e che mandavano le scatolette americane? italiane l'italia non eravamo l'italia non ci appartiene ancora l'italia non ci appartiene ancora l'italia era il primo numero 42 l'italia era il primo numero 42 l'italia era il primo numero 41 ora ci avevo la ritorno si due a parte partita a marzo e scoppiava la guerra giù tutta non è che era la classe nostra è stata proprio l'italia e tu hai perduto 6 mesi che sono morti sotto la guerra l'italia tutto un anno tutto un anno quasi un anno indietro però 56 mesi si è stata ancora in Italia ancora e poi abbiamo un'albanista tutti no l'albania perché 8 mesi che stia in Albania finiva la guerra in Albania e prenderanno i presidi però lo incollati ma la Grecia combattivano con i figli e la Grecia era in alliance steveni la Grecia l'albanista con l'italiana 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 il l'italiana si ho tutti ma lì e poter quando si è venuto i Americani l'italiana l'italiana l'italiano una guerra per di torna perchè così ero io a Fonè, noi stiamo al costo, le pizze di cammini di Catiluma, a Romaro ma tutti i barcari a Sicilia, i barcari a Tarno, manca sparavano fuori come fece la Cabbadoglia, la resa, no? e poi gli armi, tutti guardano le armi, contro chi ne sparavano, contro la mele, contro i viti e poi gli sbarcaro gli americani, io gli americani non sono fottili gli occupavano, dovevano entrare, dove sbarcaro, dovevano portare, dappolo, dappolo, dappolo ma loppo erano in raro, non sono fottile e poi l'italia fece... ma loppo erano a Rumi, da per i mondani, a Cassino da Cassino eh? in questo caso, ci sono i viti anni, loppo, loppo ha fatto la rognastizia poi, 3,4 provincia che erano qua, dalla bassa Italia a cuglietti, giù me lo mandavano alla pronti, da Cassino e l'italia li salvava La Carnavonnante le tedesche, sono tornati tu gli anni la feli, sono piaciuto da Carnavonnante le tedesche e non vi diceva già... Devo vedere la Monto Cassino la eh? La Monto Cassino è romata da Bobba e ci sono venuti a Monto Cassino Allora, mi dice che è ferita la guerra, non hai capito questa guerra che è cominciato Ah, adesso guarda, mi chupo, la vuoi di rollo, un po' di pancino. Ma è male il karma. E' che sia vita, come un culo. Mi va a prendermi dentro, mi va a dar la vana mente. E me va a preparare. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ehi, ehi, io l'ho ora da prendere ehi, mi piace Ciao, c'è l'ho Ecco, c'è l'ho, c'è l'ho dal inizio c'è l'ho dal inizio C'è l'ho da, l'ho da, l'ho da l'ho da, l'ho da L'ho da Oh, c'è l'ho da mi so che non mi ristoriamo a mangiare mi ristoriamo più! Io da me ristoriamo! Não puoi nem�지, non puoi! destroyed la tua foto non sono� dati non posso rimprover ismi presto visto che sono i nostri qui Oh, grazie! Oh, grazie! Oh, grazie! Beauty! 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 What's your wife, your friend? Girl, in the Mildred, we're willing to stop this in place. Look at all this, this is what you do. What's your friend? What do you do, Daniela, you're willing to stop this in place? You're willing to stop this in place? You're willing to stop this? I'm willing to stop this in place. It's a very difficult time. I don't want to stop this in place. non è un po' del nome, 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 scusate, 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 memory full, what are you talking about, come in there, full? Happy birthday to you Happy birthday dear mama Happy birthday to you I can see you Hi daddy Hi daddy One more minute Come do you? Yes, yes, yes Yes, yes All right All right I'm going to film this way This way I'm going to film this way I'm going to film this way I'm going to film this way Here Maybe Come do you know I've got to film this way Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 All right. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.